Ciao ragazzi sono Chris e benvenuti nel mio garage. Oggi vi parlo di questo tachimetro digitale senza contatto, quindi con un laser, che vi serve per misurare la velocità di rotazione di quelli che possono essere utensili da lavoro, macchinari, eccetera. Questo è un modello senza contatto, quindi non ha la rotellina che si appoggia all'utensile di cui dobbiamo misurare la velocità e quindi funziona con un raggio laser. A cosa ci serve? Se noi abbiamo trapani avvitatori, trapani a colonna, magari questo è più un discorso di curiosità, ma se abbiamo a caffare con macchine utensili particolari, un torneo, anche a livello industriale, e abbiamo necessità di conoscere la velocità di rotazione di un determinato tipo di utensile, anche per un'eventuale calibrazione, possiamo affidarci a strumenti come questo. Nel dettaglio, questo qua, comprato su Amazon, ha 17,90€, vi metterò il link in descrizione. È alimentato da una batteria da 9 volts inclusa, ma ve lo farò vedere dopo. Riesce a misurare da una distanza minima di 50 mm fino a 500 mm, anche se più ci allontaniamo e più ci viene difficile mirare il punto che stiamo misurando. Riesce a campionare la velocità già in 0.8 secondi, quindi in meno di un secondo già ci dà la velocità, però poi più lo teniamo puntato più sarà preciso. Ha un range di misurazione da 2.5 giri al minuto fino a 99.999, cioè il massimo che possiamo leggere in questo grande display. E ha un errore di 0.1 tra 2.5 e 1.000 giri. Oltre 1.000 giri l'errore può arrivare anche a un giro al minuto. Vabbè, diciamo che un giro sopra i 1.000 è abbastanza accettabile per un prodotto così economico. Vediamo come arriva quando fate l'ordine. Quando fate l'ordine arriva in questo pacchettino che poi è contenuto in questo pacchettino che poi è contenuto in questa borsettina dove al suo interno troviamo libretto di istruzioni che spiega le quattro cose da sapere ma ve le dirò nel corso del video. Per esempio il nostro tachimetro digitale troviamo anche una batteria da 9 volts che io ho già installato quindi la batteria è inclusa nell'inserzione mi sembra che c'era scritto che la batteria non era inclusa. E troviamo una serie di striscioline, 1, 2, 3 striscioline di questo materiale riflettente che serve al nostro tachimetro per fare la misurazione. Come fa il nostro tachimetro a misurare la velocità? Allora noi dobbiamo tagliare un piccolo pezzettino approssimativamente come scritto nel manuale di 12 mm. Non è importantissimo che sia 11 o 13, ma non lo facciamo troppo sottile altrimenti non viene rilevato. E dobbiamo applicarlo all'utensile di cui dobbiamo misurare la velocità. Come ad esempio, vi faccio vedere, ora facciamo una prova, come ad esempio questo trapano a colonna, l'ho messo lì, questo qua. Il nostro tachimetro, la parte frontale come vedete, ha un puntatore laser, quello là dietro, e una fotocellula, questa trasparente che vedete vicino al laser. Vediamo se accendo la luce. Ok, quello che sembra un piccolo led, quella non è altro che una fotocellula, che praticamente vede il laser riflesso. In questa carta riflettente, vedete come si vede, a differenza di un puntino normale, guardate come riflette. Quindi la fotocellula riesce a vedere il laser riflesso in questo nastro, ed effettua il conteggio di tutte le volte che lo vede, come gira al minuto. Il manuale di istruzioni dice che se vogliamo aumentare la precisione, quando dobbiamo leggere velocità basse, o anche per velocità alte, e dobbiamo aumentare la precisione, possiamo mettere anche due o anche tre pezzettini di nastro intorno, ad esempio, al nostro mandrino. E poi dividere il risultato che troviamo scritto qui, per il numero di striscioline che abbiamo messo. Quindi se abbiamo 1500 giri e abbiamo messo tre striscioline, tre pezzettini, 1500 diviso tre fa 500 giri. Se ne abbiamo messe due, dividiamo per due. Se ne abbiamo messa una, il valore è quello letto qui. Come vediamo, la scocca è abbastanza rigida, con la parte frontale di colore arancione, anche se è un colore un po' anomalo, come arancione, dove abbiamo il triangolino che ci fa capire che qui c'è il laser, quindi stiamo attenti a non puntarlo sul volto delle persone. Due tasti e un grande display. Vediamo che questo è il codice DT2234CP+, è un grande display. Allora, il grande display, come vedete, in questo momento sto effettuando la misurazione, ma non vede niente, quindi visualizza 0. Ha 1, 2, 3, 4, 5 cifre e la virgola che si sposta in base alla lettura, per facilitarci la lettura. Poi abbiamo il tasto memoria. Praticamente il tasto memoria che cos'è? Ora io lo premo e vedrete dei valori cambiare automaticamente nel display. Posizione numero 1, 45.7, 45.7, 45.7. Allora, vediamo se lo riesco a fare vedere con la posizione numero 2. Allora, quando premo si visualizzerà prima la posizione di memoria, poi si visualizzerà il numero ultimo letto, proprio nel momento in cui ho lasciato il tasto. Successivamente, dopo 2 secondi, visualizzerà il valore massimo letto in quella misurazione. Dopo altri 2 secondi, il valore minimo. Allora, vediamo. Posizione di memoria 2, ultimo numero letto, valore massimo letto, valore minimo letto. In questo caso stanno coincidendo. Vediamo la 3, vediamo la 4. Posizione di memoria 4, ultimo numero letto, 1080. massimo e minimo. Ok, qui abbiamo visto la differenza. Quando effettuiamo una misurazione, l'ultima misurazione che abbiamo fatto verrà messa in posizione di memoria 1 e quindi tutte le posizioni di memoria scenderanno di un posto. Quello che prima era la 1 diventerà la 2, quello che prima era la 2 diventerà la terza. E via di seguito. Fino a 20 posizioni di memoria. Molto compatto, vedete che si impugna tranquillamente. I tasti sono molto sporgenti, quindi si possono premere accidentalmente quando è all'interno della confezione. Io sono abituato sempre a togliere le batterie per evitare di farle scaricare con pressione accidentale dei tasti. Però se voi lo riuscite a mettere in una posizione dove siete sicuri che non possiamo premere il tasto, come ad esempio io lo metto qua ed è sicuro che non si possono premere per sbaglio i tasti. Allora, devo dire una cosa. Probabilmente a causa di un problema o di come è stato trattato durante il trasporto non è arrivato funzionante. Perché? Ora farò scorrere delle immagini mentre lo riparo. Perché il laser che vedete di sotto e ora è perfettamente allineato alla fotocellula, o quantomeno sono paralleli, il laser era storto e si vedeva all'interno della plastica il segno del laser. Quindi non riuscivo ad allineare in nessun modo questo tachimetro per far leggere la velocità. L'ho smontato, ho addrizzato leggermente il laser, ora è perfetto e il tachimetro funziona perfettamente. Avrei potuto fare il reso, aspettare due o tre giorni, aspettare la riconsegna, aspettare il rimborso. Siccome mi serviva oggi che devo fare un video su quel trapona a colonne, quindi devo fare il test della velocità, ho deciso di ripararlo da me. Se qui dovesse capitare, siccome il led è posizionato semplicemente con i suoi piedini saldati sulla basetta, quindi non ha una plastica di supporto, può capitare che durante il trasporto, se vi cada accidentalmente, si mette storto. Quindi in questo modo avete visto come sistemarlo eventualmente. Allora, vediamo come funziona. Allora, come vi ho detto prima, ho messo qui la carta riflettente. Naturalmente non ho un altro strumento simile per controllare la veridicità di quello che ci dice nel display, però ho visto che questo trapano ha un display per la misurazione della velocità che ha un errore di quasi 10 giri. Quindi, qualsiasi sia il valore letto, ha un errore di quasi 10 giri. Quindi, vediamo. Siamo a 1080. Abbiamo visto... Misura 1, 400 giri l'ultima, 1082 la massima, 417 la minima, quindi 1080, perfetto. Allora, vediamo per esempio questa lucidatrice della Parkside che, in seconda velocità, come attualmente, deve dare 8300 giri. Speriamo che l'adesivo non si stacca dalla spugnetta. Naturalmente la batteria è carica. Vediamo. Ok, se n'è andato. Si è staccato. Vediamo se possiamo metterlo invece da questa parte. Ciao, se n'è andata. Allora, ho visualizzato l'ultimo valore. 8.370. Considerando che è messo in questa posizione, quindi devo trovare l'inclinazione, ma in teoria non dovrebbe essere stata sfalzata la misura. Ci dovremmo essere. Mettiamolo in questo qua. Allora, questo fa solo 200 giri. Vediamo se riesce a misurarli. Direi perfetto. Facciamo l'ultima prova. E vediamo questo trapano. Allora, in seconda velocità, il manuale di istruzioni riporta 1650 giri. Prima velocità, 440 giri. Allora, naturalmente, ragazzi, le prove che vi ho fatto vedere non servono a verificare l'attendibilità dei valori letti qua. Perché se qua c'è scritto 1000 e là me ne danno 990, probabilmente sbaglia questo. Ma potrebbe anche sbagliare questo. Però abbiamo visto nel trapano a colonna che c'ha un tachimetro integrato e lì la misurazione è quasi perfetta. Si sbagliano. È quasi perfetta. C'è una piccola differenza rispetto a quello letto di 5 giri al minuto sopra i 1000. E diciamo che se consideriamo che è lui l'errore, per 17 euro 5 giri su 1000 ci stanno. Ma secondo me l'errore sono degli utensili e dei dati riportati, anche perché la velocità di un trapano potrebbe variare anche da una diversa carica della batteria, da una batteria di diverso amperaggio, da un'usura del motore, da attriti interni che magari sono causati dalla mancanza di grasso. Quindi non ci metto la mano sul fuoco su quello scritto nel manuale, che possibilmente è vero quando il trapano viene testato in fabbrica, in tutte le condizioni ideali e che è appena stato costruito. Quindi un uovo nuovo, senza attriti, senza usure, eccetera. Ragazzi che vi devo dire? Per 17,99 euro è uno strumento che ci può aiutare nel nostro fai da te, può soddisfare la nostra curiosità. Ma ci può aiutare anche nell'ambito del lavoro, se abbiamo necessità di misurare all'interno del suo range di errore, la velocità di macchine rotanti. Qualsiasi sia la natura della rotazione, che può essere un tornio, un albero motore, un compressore di un'industria. Abbiamo la possibilità, grazie alle striscioline adesive, di poter leggere la qualsiasi. Ripeto, è il modello senza contatto, quindi sfruttiamo il laser e la fotocellula. Se finite le striscioline, oltre al fatto che le potete comprare sempre su Amazon, e più o meno vengono vendute una ventina di striscioline 10 euro, ma si possono utilizzare, potete comprare il nastro della 3M, quello riflettente, quello che si mette anche nei furgoni, e tagliarla a misura. Lo spessore di questa strisciolina è esattamente 1 cm, poi va tagliato, come è scritto nel manuale, ogni 12 mm circa. Va bene ragazzi, io ve lo consiglio, funziona. A parte il problema iniziale che l'ho risolto, e che eventualmente voi, se non volete smontarlo, basta fare il reso e farvene spedire un altro, ma quello credo sia un problema relativo al trasporto, però funziona. Troverete il link in descrizione, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Ciao!